Ben arrivati, abbiamo deciso di raccontarvi qui vicino a questa meravigliosa opera il programma che abbiamo realizzato, che non è soltanto un programma espositivo, è frutto di un lavoro di importante restauro e di grande studio intorno a questo collage di albumine di Giacomo Rossetti che presentiamo oggi e che è stato recuperato dopo una dozzina di anni di sofferenza in cui non era stato possibile più esporlo e all'interno di un festival fotografico intitolato I Patrimoni siamo davvero felici oggi di poter raccontare un'opera d'arte prima nel suo genere assoluto a livello internazionale che torna in maestà all'interno delle collezioni civiche bresciane Lo facciamo insieme a degli ospiti importanti, in primis direi per il ruolo che ha avuto in questo recupero la dottoressa Isabella Villafranca, responsabile scientifica, cervello della società Open Care che si è occupata del restauro, insieme naturalmente ai nostri organi della fondazione con la presidente Avvocato Bazzoli e ci onorano della presenza anche l'assessore della cultura Laura Castelletti e naturalmente lo conoscete tutti il sindaco Emilio Del Bono Lascio dunque subito per i saluti di rito alla padrona di casa, l'Avvocato Bazzoli che può prendere il microfono, che disinfettiamo prima del passaggio è già stato disinfettato, lo disinfetteremo dopo, prego Sì sì, può stare lì il presidente Grazie, benvenuti a tutti è bellissimo anche il titolo, con amore e cura grandissima che è l'amore e la cura grandissima con cui tutti ci occupiamo del nostro patrimonio e siamo impegnatissimi a riuscire anche nelle nostre vastissime collezioni a rendere fruibili pezzi che abitualmente non siamo ancora stati abituati a poter frequentare proprio perché le collezioni sono vastissime abbiamo tantissime opere preziose che ancora è un giacimento che ancora ci consente di fare queste operazioni quasi di scoperta all'interno del nostro stesso patrimonio è l'amore e la cura grandissima con cui Rossetti fece quella fotografia e grazie Roberta Dadda, una volta tanto colgo l'occasione per ringraziare ufficialmente la nostra curatrice, capo posso così definirsi con lei che con amore e cura grandissima si prende cura delle nostre collezioni e si è inventata questo bellissimo titolo della mostra prendendolo appunto dallo scritto descrittivo dell'opera siamo nell'ambito del fotofestival siamo in chiusura del fotofestival che si avvia appunto alla sua conclusione ma che davvero ha coinvolto l'intera città in tutta questa serie numerosissima di mostre ha coinvolto tutta la città e anche i momenti successivi della città è molto bello, credo che proprio quasi in chiusura si riesca a festeggiare il ritorno di questa opera straordinaria quindi veramente grazie moltissime a tutti quelli che hanno collaborato non voglio farvi perdere tempo perché questa opera merita una profondita descrizione su cui adesso credo che gli altri interventi ci illustreranno grazie grazie presidente in effetti questa è la quinta delle mostre che all'interno del museo di Santa Giulia negli splendidi recentemente recuperati spazi del quadrilatero rinascimentale dove ci troviamo ora uno dei motivi per cui abbiamo deciso di fare qui questo incontro è anche renderci conto della maestà di questi spazi architettonici definitivamente recuperati pochi mesi fa proprio per il Foto Festival e che d'ora in avanti saranno il nostro fiore all'occhiello per le grandi mostre e le grandi esposizioni dicevo è la quinta mostra insieme alle altre quattro che poi avrete la possibilità di visitare per chi ancora non l'avesse fatto che sono state organizzate all'interno della quarta edizione del Brescia Foto Festival con la curatella artistica di Renato Corsini che è qui e saluto in particolare poi desidero ricordare la collaborazione con l'editore Schirà che pure vedo in sala il responsabile mostre il dottor Sponzilli con cui abbiamo prodotto la mostra la prima italiana del grande fotografo Alfred Zailan Imperium Romanum e che Schirà ci segue anche per le pubblicazioni dei cataloghi torneremo poi a parlare del catalogo di questo progetto che oggi non è pronto perché dobbiamo inserirvi le fotografie in dettaglio di questo capolavoro recuperato e quindi ricordo a chi non lo avesse ancora fatto all'uscita di lasciare il proprio nome, cognome e indirizzo postale perché a tutti voi che siete venuti qui oggi ci avete onorato vogliamo spedire fra qualche settimana il catalogo che sarà anche per noi un progetto ponte verso il prossimo Foto Festival e tutto sommato un momento editoriale che ricorda come il nostro Foto Festival non si limita solo a realizzare progetti espositivi temporanei ma realizza anche progetti di ricerca e di restauro sulla fotografia come questo programma manifesta è una linea istituzionale, culturale che ci è stata indicata dal Comune questa di insistere sul patrimonio quando è possibile lo abbiamo fatto con Sailand arricchendo le nostre collezioni di otto fotografie da lui realizzate per il progetto Imperium Romano ma Brescia e lo abbiamo fatto recuperando definitivamente questa meraviglia alle collezioni ecco questa linea è naturalmente impersonata dal Vice Sindaco Assessore alla Cultura Laura Castelletti a cui lascio la parola per i saluti Buongiorno a tutti e benvenuti nel nostro museo credo che con amore e cura grandissima sia la perfetta sintesi di un atteggiamento che l'intera città ha nei confronti del suo patrimonio e presentare questo raro e delicatissimo oggetto di restauro credo anche che sia la migliore e più emblematica tappa finale che potessimo immaginare per l'edizione del 2021 del Brescia Photo Festival che ricordo un festival un Brescia Photo Festival che ha avuto un grande risalto sui media nazionali e che ha avuto una grande presenza sia di bresciani che di turisti italiani e stanieri nell'opera di Rossetti e nel poterla quindi riproporre oggi nel percorso museale troviamo un eccezionale compendio di ciò che può significare il sostantivo patrimonio quindi il tema guida della nostra rassegna patrimonio è tutto ciò che ci arriva in eredità storica di cui ci assumiamo l'onore e anche l'onere come accade questa volta di tramandare i posteri patrimonio è un bagaglio del saper fare sono patrimonio i nostri monumenti luoghi di culto e l'affezione popolare verso di esse questa composizione fotografica racconta evidentemente tutto questo racconta come dicevo inizialmente l'impegno che la nostra città l'amministrazione e Brescia Musei investono nella cura nella valorizzazione dei beni che ci sono stati affidati sono anche di una tecnica unica e particolare che valsa a Rossetti a noi piace ricordarlo un premio durante l'esposizione universale del 1873 e ci racconta anche dell'amore dei Bresciani e di Brescia per il legame profondo con un suo santuario con la chiesa dei miracoli quindi in un oggetto in cui ritroviamo insomma tante storie che sono patrimonio della nostra storia e oggi i visitatori del museo di Santa Giulia possono così scoprire insieme a noi pezzi, tasselli di una storia di cui andiamo molto orgogliosi grazie Vice Sindaco veniamo ora a farvi entrare all'interno della meraviglia di questo oggetto che è importante per moltissime ragioni lo è perché fu probabilmente il primo esperimento di queste dimensioni di collage di albumine realizzato proprio qui a Brescia da Giacomo Rossetti pittore e fotografo che era surto già al riconoscimento nazionale in vita come il fotografo di Brescia e del suo patrimonio e che aveva per primo deciso di percorrere la strada ardita di riuscire a condurre una rappresentazione integrale di un ornato rinascimentale quello della chiesa dei miracoli che presentava delle complessità enormi dovute alla vicinanza della parete dell'edificio nella stessa strada di fronte alla facciata che potete ancora vedere e rispetto anche alle tecnologie dell'epoca che richiedevano sostanzialmente adesso tecnicamente lo sviscero molto banalmente uno sviluppo istantaneo cosa che impediva di farlo poi in studio e poi tutti gli elementi legati alla composizione di questo collage su cui adoperava anche un lavoro con la pittura quindi davvero un'opera straordinaria che ci viene adesso illustrata dal punto di vista storico-artistico dalla dottoressa Roberta Dada che invito a parlare qui grazie comincio con la doverosa citazione del breve brano completo dal quale abbiamo attinto questo titolo che mi fa piacere scoprire è piaciuto così tanto nei commentari dell'Ateneo del 1870 si legge con amore e cura grandissima superando spese e fatiche veramente gravose Giacomo Rossetti seppe con esattezza veramente ammirabile riprodurre col magistero della fotografia il meglio degli ornati della Chiesa dei Miracoli nel 1870 in particolare si dà notizia di questa complessa impresa fotografica che riguarda sia la Chiesa dei Miracoli che la loggia che è concentrata sulla riproduzione degli ornati che sono fiori all'occhiello della scultura rinascimentale lombarda e soprattutto di quel filone così riccamente decorativo che ancora oggi la contraddistingue ha come ricaduta due serie fotografiche che vengono stampate in dimensioni importanti e raccolte in cartelle per un totale di 54 tavole questa è la premessa alla realizzazione di questa opera che è quasi difficile riuscire a definire con un termine un unico termine proprio perché è un unicum collage di albumine è corretto tecnicamente ma forse è un po' riduttivo forse opera fotografica che è la sintesi trovata da Isabella Villafranca è quella che meglio la definisce nella sua assoluta indefinibilità è un'opera che racchiude in sé non solo una grande complessità tecnica ed esecutiva ma anche come dire un sapore che ci dice molto della nostra città e della nostra cultura c'è sicuramente uno spirito di campanile e un orgoglio bresciano all'origine di questa impresa e come dire nello sforzo che questo uomo questo fotografo si accollò dal punto di vista come dire economico e di impegno concreto nel realizzare un ponteggio apposta per riprodurre per realizzare questi scatti ma c'è anche uno sguardo europeo perché questa fotografia che all'epoca si presentava in una cornice ancora più grande con lo stemma della città e con altri elementi della facciata aggregati ai lati era stata realizzata per essere inviata come ricordava Laura Castelletti all'esposizione universale di Vienna del 1873 Rossetti poi partecipò ad altre varie esposizioni universali pare addirittura dobbiamo ancora trovare documenti ma pare addirittura a Melbourne e poi mandò nuovamente questo manufatto all'esposizione del Sempione a Milano ma ci sono anche altri elementi che dicono molto di noi perché questo oggetto è un oggetto che trasuda sapienza artigianale è proprio un'impresa come dire delle mani una manualità straordinaria perché i pezzi che la compongono sono pressoché incontabili poi lascio a Isabella di dire più o meno quanti sono in base alla sua stima oltretutto si presentava come dire con una complessità tecnica ulteriore che sempre Isabella meglio di me potrà raccontare ma a questa sapienza artigianale ed esecutiva univa anche una ricerca artistica si diceva che come molti del suo tempo Giacomo Rossetti fu un pittore fotografo lui si era proprio formato come pittore studiando come pittore all'accademia e l'intervento pittorico sulla stampa all'albumina ha un ruolo fondamentale nella restituzione complessiva della facciata della chiesa ma a questi elementi si aggiunge anche l'approccio tecnologico cioè la volontà di restituire un rilievo fotografico ortogonale ed esatto nelle sue proporzioni che sono riportate nella scala che sta ai piedi della fotografia di 1 a 5 ecco tutto questo realizzato e cito di nuovo le fonti di allora con una laboriosità infaticata che ancora ci dice molto di noi e un attaccamento assoluto al proprio lavoro e al prodotto del proprio lavoro gli ingenui racconti ottocenteschi ci raccontano che Rossetti viveva con le sue fotografie e non riuscì a chiudere il suo stabilimento fotografico neanche in età molto avanzata quindi morì in mezzo alle sue fotografie che poi evidentemente passarono di mano perché questo oggetto fu offerto in vendita al comune da un altro fotografo bresciano anzi dagli eredi di un altro fotografo bresciano Capitanio ecco questa stratificazione che è una stratificazione fisica concreta che è una stratificazione come dire di valori e anche una stratificazione dal punto di vista culturale qui Rossetti rinnova una tradizione antica che ha origini cinquecentesche che si è sviluppata fino all'ottocento che è quella della riproduzione degli ornati che solitamente si realizzava col disegno o con l'incisione per destinare le tavole alle scuole di formazione dei lapicidi degli ornatisti e Brescia aveva una propria tradizione in questo senso nella scuola Avantini di Rezzato ma anche nella scuola Moretto che allora era associata alla Pinacoteca e che formava proprio gli addetti ai mestieri dell'arte quindi gli artigiani dell'arte per fare questo però utilizza un mezzo modernissimo un mezzo fotografico e come vi dicevo un approccio tecnico-scientifico che lui doveva sicuramente anche al fatto di essere socio di un ingegnere quindi una stratificazione di significati che lo porta a realizzare non una veduta secondo diciamo la moda che era anche la moda del momento ma un rilievo e in questo senso la sua opera incontra una necessità che trovava espressione nell'Italia unita che si andava confrontando con le norme e ancora oggi il risolto tema della tutela dei monumenti mentre Rossetti realizza questa impresa molte voci nel mondo della cultura si levano chiedendo di trovare un modo per documentare l'aspetto dei monumenti e tra queste voci c'è anche quella di Giuseppe Zanardelli che nel 1857 si associa a questo richiamo lamentando che a Brescia non ci sia un fotografo che si dedica appunto a questo per inciso devo riconoscere che questo tema in particolare è stato sviluppato per il volume che poi daremo alle stampe da Elisa Sala che stamattina non è potuta essere con noi quindi mi faccio portatrice anche della parte di interpretazione che devo a lei ecco Zanardelli questo oggetto è un oggetto simbolo io credo della Brescia Zanardelliana una Brescia forte delle proprie radici ma che guarda citando un celebre titolo di Sergio Onger verso la modernità grazie avete potuto capire dalla passione con cui la dottoressa Dada vi parlava di questa opera quanto in effetti di questo titolo vi sia dello stesso impegno della nostra conservatrice e del resto di tutto il gruppo di lavoro tra l'altro a questo progetto hanno anche collaborato Piera Tabaglio e Elena Scuri che ringrazio del team di conservazione e collezioni è stato anticipato questa opera è stata frutto di un importante restauro il restauro è stato possibile grazie all'assegnazione di un contributo importante da parte di un bando che abbiamo vinto a questo scopo il bando è un bando importante della direzione creatività contemporanea del ministero della cultura si chiama strategia fotografie 2020 e è stato proprio vinto per la qualità diciamo così artistica e storiografica di questo intervento e anche per il progetto di valorizzazione che è collegato ad esso l'opera che è stata qui restituita sarà esposta per questo mese fino alla fine del fotofestival è un'opera estremamente delicata nonostante il restauro e dunque in ogni caso al termine di questa esposizione sarà conservata all'interno dei nostri depositi che sono come sapete una caratteristica dei depositi museali di Brescia Musei e del Comune è che sono visitabili e costantemente realizziamo delle visite anche domani mattina per esempio vedo il dottor Sforzini nell'ambito della giornata europea nella nottata europea dei ricercatori domani mattina compiremo una visita dedicata al tema della ricerca nel restauro proprio qui nelle nostre nei nostri depositi ecco l'opera al termine sarà collezionata conservata da noi e ricorsivamente la potremo esporre di qualche mese consecutivamente ma evidentemente per non comprometterla la terremo preservata prima raccontavamo discutevamo con l'assessore e con la presidente che potrebbe essere in qualche modo un oggetto simbolico che durante i nostri fotofestival viene esposto nell'ambito della sezione dell'età veneta del museo dove peraltro prima di essere compromessa è esposta quindi avremo una continuità ecco questo che è importante è ringraziare ufficialmente il ministero della cultura per questo intervento importante che ci ha consentito di realizzare il restauro di cui ora ci parlerà la dottoressa Villafranca e anche la pubblicazione edita da Schirà a cui hanno collaborato in segni i ricercatori è già stata citata l'ingegnere Sala che lavora a segnista di ricerca del dipartimento di storia dell'architettura qui all'università di Brescia ma ringrazio anche è venuta oggi a trovarci la responsabile dell'archivio fotografico del castello Sforzesco la dottoressa Silvia Paoli oltre naturalmente alla dottoressa Dada e alla dottoressa Villafranca a cui lascio la parola per parlarci di questo importante intervento prego no no può restare lì dottoressa buongiorno innanzitutto io volevo ringraziare Stefano Karagio e Roberta Dada di avermi dato l'opportunità di lavorare a questo appassionante intervento di restauro tutti i restauri lo sono ma questo in particolar modo e soprattutto volevo ringraziarvi per avermi dato la possibilità di collaborare con la fondazione Musei Civici di Brescia e capire comprendere veramente la potenza di fuoco che c'è e l'abnegazione perché certe mail partivano a mezzanotte piuttosto che alle sei di mattina quindi direi che un lavoro corale molto bello e interessante io cercherò di non tediarvi con delle formule chimiche di restauro ma con delle immagini che penso siano molto belle dunque questa era l'opera come è stata fotografata all'arrivo nei laboratori di Open Care a Milano opera di Giacomo Rossetti abbiamo sentito prospetto della chiesa Santa Maria dei Miracoli nel 1873 Giacomo Rossetti compie questa operazione estremamente interessante di realizzare un'opera con delle dimensioni ciclopiche per l'epoca perché se immaginate le dimensioni delle fotografie erano da praticamente fototessera a un formato massimo dai 15 per 18 quindi assolutamente inusuale e non avendo la possibilità le tecnologie per realizzarle in un unico formato che cosa fa Rossetti compie questa operazione estremamente interessante fa un collage di fotografie che abbiamo scoperto durante le indagini chimiche che sono state realizzate essere sia albumine che aristotipi cosa vuol dire dipende sostanzialmente dai prodotti che sono stati realizzati per preparare le carte quindi o albumina barite le dimensioni come vedete sono veramente grandi perché parliamo di 305 per 250 queste dimensioni assolutamente incredibili vengono realizzate in che modo come dicevamo un collage di prendetela con con le molle ma probabilmente 270 fotografie perché non siamo riusciti a contarle esattamente perché c'erano dei frammenti che erano veramente piccolissimi alcune foto erano sovrapposte e recuperate in altri punti quindi diciamo sicuramente più di 200 stampe fotografiche quindi la prima operazione di estremo interesse è che viene realizzata una foto immaginate lo stupore dei visitatori dell'epoca che guardavano questa immensa fotografia e poi una seconda aspetto estremamente interessante è che Giacomo Rossetti artista quindi nasce come pittore Giacomo Rossetti formato all'Accademia per primo al mondo immagina che la fotografia possa diventare opera fotografica e quindi cosa fa per elevarla la fa questo collage di fotografie incollandole su una tela una tela che era stata preparata come si fa quando si preparano i dipinti quindi con gesso e colla monta questa tela su un telaio lineo e completa l'operazione verniciando la superficie come se fosse sostanzialmente un dipinto quindi eleva per primo almeno a seconda delle mie conoscenze ma credo veramente un'opera fotografica a opera d'arte con estremo lungimiranza se pensiamo che il legislatore italiano nel 1970 arriva solo al 1979 ma non solo il legislatore italiano più o meno in Europa tutti a definire nel 1979 modificando la legge sul diritto d'autore di Berna e quindi distinguendo la fotografia da semplice scatto fotografico a opera d'arte quindi per la legge abbiamo questa doppia funzione e questa doppia protezione e poi l'ultimo aspetto estremamente interessante che io ravvedo è che realizza un'operazione di fotogrammetria sempre con grandissima lungimiranza quindi fa montare un'impalcatura al di là della strada realizza una serie di scatti esattamente ortogonali che poi monta con una precisione di millimetrica sulle dimensioni quindi un'operazione anche in questo caso estremamente lungimirante l'opera come dicevamo prima come diceva la dottoressa Dada è fragilissima e quindi non poteva negli ultimi anni non poteva essere più esposta proprio perché c'erano tutta una serie di sollevamenti di stacchi e problemi di conservazione che non permettevano più l'esposizione in a parete in realtà erano stati condotti già una serie di interventi di restauro nel 1991 dei quali abbiamo documentazione probabilmente anche prima c'erano stati altri interventi nel 91 c'è una manutenzione straordinaria durante la quale la persona che si è occupata del restauro successivo nel 96 ha la possibilità di conoscere perfettamente l'opera e di capire di mettere a punto un progetto di intervento che appunto verrà condotto nel 96 un progetto di intervento direi radicale perché è un lavoro molto importante che cosa fa la restauratrice stacca tutte le fotografie le libera sul retro dalle colle che erano state utilizzate per incollarle sulla tela le monta su una carta bollore che è una carta comunemente usata nel restauro della fotografia diciamo da una fondatura quella che viene chiamata una controfondatura in carta e poi però la rimonta di nuovo su una tela togliendo il telaio ligno e mettendo un telaio in alluminio pensando sostanzialmente che in realtà questo telaio ligno avrebbe impedito movimenti che invece erano secondati scusate di alluminio avrebbe impedito movimenti che invece erano secondati dal telaio di legno probabilmente questa operazione per una serie di problemi prima di tutti l'accoppiamento di materiali che hanno coefficienti di dilatazione che non è assolutamente simile quindi al variare di temperatura e umidità relativa carta fotografica carta bollore e tela si muovono in modo diverso per cui si ripresentano in modo minore ma sempre importante una serie di sollevamenti di stacchi e lacerazioni che portano a un nuovo intervento del 2002 che anche in questo caso non è risolutivo fino ad arrivare al 2017 con un ultimo condition report che è quello che dice l'opera deve essere nuovamente restaurata ecco vi presento una serie di immagini guardate come si presentava la superficie mi viene a dire pittorica perché però non è un dipinto ma la superficie delle fotografie guardate come erano distaccate lacerate quello che voi vedete come dei chiamiamoli cerotti di carta sono sostanzialmente delle carte che sono state posizionate per evitare che durante il trasporto si staccassero completamente i frammenti sollevati sollevamenti e grinze dell'opera lacerazioni vedete che dove ci sono queste profonde lacerazioni traspare la tela soggiacente i distacchi come vi dicevo le fotografie erano sovrapposte in alcuni punti e qui si vede benissimo che ce n'è una soggiacente alla lacerazione sopra e poi vedete ecco particolari inquietanti proprio la delaminazione delle opere fotografiche quindi questi frammenti che vagavano ecco questo è un irraggiamento con raggi ultravioletti con lampada UV che ci permette di vedere che in realtà sulla superficie c'era una una finitura che in realtà dalla dal progetto che era stato realizzato di restauro la restauratrice precedente sosteneva di aver tolto la vernice originale di Rossetti perché contraeva la carta fotografica e quindi aveva sacrificato lo strato di vernice in realtà noi abbiamo trovato un altro strato che però non era di vernice ma bensì di albumina di albume cosa vuol dire che durante l'intervento di restauro credo in quell'occasione però nessuno degli interventi era stato dichiarato era stato steso una una gelatina animale sulla superficie ecco la gelatina rimozione della gelatina che era stata data probabilmente a caldo quindi in alcuni casi era penetrata poi chiaramente essendo un'operazione manuale non poteva essere data e applicata nello stesso modo perché c'erano sicuramente dei margini di soggettività e soprattutto di tempi di applicazione quindi in alcuni casi veniva via benissimo praticamente a freddo sollevando solo lo strato e in altri casi invece abbiamo dovuto lavorare con queste nuove tecnologie sono nano gelatine che ci permettono di apportare sono nanotecnologie che ci permettono di apportare acqua su superfici che l'acqua non la tollererebbero vedete le lacerazioni la chiusura delle lacerazioni le lacerazioni dopo essere state consolidate dal retro venivano tenute sotto peso le mancanze proprio di carta venivano stuccate invece che con stucco in questo caso con polpa di carta e tenute sotto pesa con dei magneti l'ultima operazione è stata di ritocco pittorico mi preme dire che il ritocco pittorico è stato eseguito solo ed esclusivamente in corrispondenza delle lacune non certo sulle carte fotografiche vedete lì in alto nell'angolo superiore si vede una grandissima lacuna che era frutto di un grosso ritocco pittorico fatto a selezione cromatica che però ormai nel tempo si era alterata cromaticamente e che noi abbiamo ripreso completamente per riadeguarla ai colori odierni ecco questa è la fase di ritocco in laboratorio che è stato un lavoro direi abbastanza lungo e questo è il prima e il dopo il restauro mi sento di lanciare un applauso perché realmente anche in questo caso c'è grande passione ma anche grande perizia competenza conoscenza dei materiali insomma un lavoro che credo signor sindaco non possa che far piacere alla alla città apprendere che tanta attenzione cura e ricerca viene applicata sul nostro patrimonio credo sia in linea con quello che è un po' l'obiettivo che ci siamo dati quindi so che lei tra l'altro ha dei tempi risicati quindi le lascio con piacere la parola per chiudere e poi anche c'è anche una piccola sorpresa per la città che non abbiamo ancora svelata è qui nascosta il signor Marco Rapuzzi ha un dono che quando avrà terminato anticipiamo e mostriamo ai nostri ospiti prego intanto permettevi di associare alle considerazioni che ho già ascoltato un sentimento di gratitudine perché ogni patrimonio recuperato ha la sua bellezza e restituito ha la fruizione perché non dobbiamo mai dimenticare che la conservazione che è ovviamente il cuore di molte delle azioni degli operatori dei sistemi museali e delle amministrazioni sono funzionali alla loro fruizione quindi i cittadini poi devono ritornare a godersi le bellezze e quindi stiamo già parlando abbiamo già confabulato su come come creare un'occasione in cui questa opera possa essere goduta e apprezzata dai cittadini e abbiamo già immaginato di esattamente portarla per un periodo là dove esattamente dovrebbe stare la chiesa dei miracoli per un periodo breve durante le festività natalizie abbiamo immaginato un regalo allora sul restauro è stato detto molto e quindi non devo aggiungere nient'altro e anche su Rossetti questa figura molto interessante e creativa e diciamo anche una persona di grande innovazione spendo due parole sui destinatari di queste fotografie cioè sulla chiesa dei miracoli e sulla loggia ma sulla loggia non dico niente perché si sa già tutto è interessante che siano state fatte queste scelte già la dottoressa Dada ha richiamato questo sentimento di appartenenza alla città e al suo patrimonio in particolare quello di un periodo storico che è il periodo rinascimentale però io vado anche un po' oltre quella è una chiesa che dentro la storia della città è legato a delle vicende specifiche è una chiesa che nasce alla fine del 1400 credo che la posa sia 1486 se non ricordo male e nasce dopo le pestilenze cioè Brescia viene colpita da una come anche altri territori dalla peste di cui lascia un segno profondissimo la peste dal 1480 per qualche anno fino al 84 e i Bresciani decidono di valorizzare un affresco che era diventato un luogo votivo in corso Marti della Libertà dove si si fermava a pregare e nasce questo gioiello del rinascimento e quello che mi interessa recuperare oltre alla devozione popolare è che questa chiesa viene realizzata dal municipio perché una delle caratteristiche di questa città è che le chiese alcune chiese forse le chiese anche più significative della città sono di proprietà del comune che non è usuale perché di solito le chiese sono inevitabilmente gesti di devozione popolare legati strettamente nella loro nascita all'istituzione religiosa e quindi appartengono per loro natura alle parrocchie alla diocesi questa è una chiesa comunale è una chiesa voluta dai cittadini che danno le risorse al comune il comune realizza l'opera e che diventa un satuario religioso ma anche un po' civile perché è chiaro il legame di restituzione di gratitudine della popolazione dopo la fine della peste e diventerà e questo è il secondo legame che mi ha sempre incuriosito di quella chiesa diventerà il legame tra la città e la campagna perché la maggior parte degli agricoltori che venivano in città o per portare ovviamente i loro prodotti o per ragioni amministrative o di servizi si fermavano a pregare in questa chiesa perché la preghiera era indirizzata verso la tutela dei loro raccolti e perché il rapporto città e provincia perché questa è una tipica città che si è costruita dentro una grande provincia a vocazione agricola poi diventata industriale in una fase successiva e quindi il rapporto città-provincia ha un rapporto strettissimo un rapporto proprio autenticamente popolare la città si popola di persone che provengono dalla provincia che hanno una cultura agricola e come mai si è stata scelta quella chiesa dagli agricoltori è un altro tema molto interessante nasce ovviamente come un atto di devozione e di ringraziamento alla fine della pestilenza ma poi diventa automaticamente la chiesa numero uno della tutela dei raccolti ed è un santuario ripeto civile tant'è che negli ultimi anni finalmente siamo riusciti a fare una serie di interventi di restauro interni alla chiesa a restituirne un po' più piena la fruizione della chiesa che aveva dei grossi ammaloramenti e anche in questa circostanza abbiamo trovato una grande generosità perché siamo riusciti a fare questi restauri grazie anche alle risorse che sono arrivate da famiglie da cittadini privati che hanno voluto aiutarci in questa operazione molto complicata che è la restituzione dei patrimoni chiudo con questo richiamo al titolo con amore e cura noi ci avviciniamo a questo appuntamento a cui teniamo particolarmente non perché sia il passaggio ultimativo di un percorso ma al contrario è un passaggio intermedio che è l'appuntamento di Brescia capitale della cultura 2023 in uno dei filoni più importanti della capitale della cultura 2023 abbiamo voluto che questo filone lavorasse intorno alla cultura come cura perché noi che siamo usciti come un po' capitato nel 1484 dalla pestilenza noi siamo usciti da una analoga pestilenza che è stata la pandemia del virus che ha duramente colpito questo territorio e la sua città e abbiamo immaginato che la cultura fosse una cura perché abbiamo bisogno di sanare le ferite e le ferite non sono solo fisiche le ferite in profondità sono anche collettive psicologiche e che hanno bisogno di essere ricomposte attraverso un sentimento di riscoperta dello stare in comunità cioè di stare insieme ma anche di di guardare la bellezza come un elemento come un elemento che in qualche maniera ti cura se noi ci pensiamo durante il periodo del lockdown più duro quello dove le persone erano chiuse in casa qualcuno di noi era obbligato a uscire ma dove essenzialmente le persone erano chiuse in casa sicuramente uno degli elementi di maggiore cura è stato il ritorno alla lettura il ritorno all'apprezzamento della natura e alle occasioni mancate di poter godere del patrimonio monumentale storico di cui noi siamo molto ricchi e quando ne abbiamo avuto perfetta e in quei mesi ne abbiamo avuto consapevolezza di questi dati una consapevolezza popolare cioè non una consapevolezza di dotti o una consapevolezza accademico-scientifica una consapevolezza di popolo noi dobbiamo lavorare su questi sentimenti forti perché sono i sentimenti che ci aiutano esattamente a fare questo lavoro che è quello di progressivo recupero del patrimonio che può avvenire anche attraverso e deve avvenire anche attraverso il riperimento di risorse perché le istituzioni pubbliche da sole non sono in grado di recuperare un patrimonio così vasto così importante così significativo e di renderlo fruibile perché servono risorse per risanare le ferite del nostro patrimonio che la storia e il tempo ha inferto ma c'è anche il tema della fruizione la fruizione ha bisogno di luoghi di infrastrutture di servizi di personale ha bisogno di un mondo che intorno deve essere fortemente compreso e valorizzato la cultura non è un di più cioè non è una non è una lateralità della vita sociale è centrale e siccome noi l'abbiamo percepito noi in senso come popolazione poi ovviamente ciascuno ha la sensibilità più accentuata o meno durante il periodo della pandemia forse questo periodo se deve lasciare in eredità qualcosa di positivo visto che ci ha lasciato in eredità anche molte cose negative è forse questo sentimento di riscoperto questo ristupore dei cittadini a dire in fondo ci sono anche tante cose per cui vale la pena vivere e per cui vale la pena spendere il proprio tempo in maniera intelligente in maniera sensibile ecco quindi questo è anche un passaggio che dice legato appunto alla chiesa ai miracoli alla pestilenza a recupero del patrimonio a tanti significati simbolici quindi grazie davvero per questo lavoro così prezioso grazie signor sindaco è molto significativo questo passaggio intorno alla sensibilità dei cittadini che contribuirono alla realizzazione della chiesa ma che continuano a essere vicini alla nostra istituzione oggi abbiamo anche un esempio concreto in più quest'opera entrerà all'interno della collezione dei civici musei d'arte e storia nell'archivio fotografico ma oggi entrerà ad arricchire la già ricca oltre 4.000 fotografie un'ulteriore fotografia quindi abbiamo il piacere di ricevere la invito anzi a venire a presentarla lei stessa due parole a raccontarla il signor Marco Rapuzzi dello studio fotografico Rapuzzi che sull'onda ritengo di questa realizzazione straordinaria intorno a Rossetti ha deciso di onorare la memoria del padre regalando alla fondazione e al comune una bellissima veduta di cui lascio parlare a lei intanto ringrazio tutti sono io che devo ringraziare voi per questo momento quasi di celebrità diciamo il primo cittadino nasce tutto da una richiesta di Roberta Dada e di Piera Tabaglio che stavano appunto cercando questa immagine che era passata in asta qualche tempo fa e nella ricerca mi è venuta in mente appunto che quest'opera noi ce l'avevamo ben conservata dalla partenza appunto di nostro padre che era un grande stimatore di questa gigantografia e proprio un grande stimatore della della storia della fotografia bresciana quindi dagli albori dai pionieri dei primi quattro grandi fotografi bresciani di cui Rossetti era forse il capostipide per la tipologia di fotografia vicino all'arte come è nato il nostro padre e quindi è stata proprio una ricerca per lui oltre ad essere un collezionista perché abbiamo un po' di immagini in archivio legate appunto a questa storia della fotografia che era un po' il progetto di nostro padre di quello di accumulare una serie di immagini per poter poi scrivere un trattato sulla fotografia bresciana ecco poi in questo momento ci è sembrato una bella cosa donare alla città io sono qui con mio fratello col quale condivido uno studio fotografico che è molto vicino al settore artistico con una collaborazione diciamo sin dalla prima mostra degli anni 60 del romanino dove è iniziato appunto il papà e tuttora collaboriamo e quindi c'è appunto piaciuto questo gesto ma ci mancherebbe una semplice cosa e speriamo di niente grazie devo semplicemente a questo punto chiudere ringraziando prima di tutto il signor sindaco che ci ha onorato della presenza ricordando alcuni dettagli abbiamo citato la generosità di questi di questo studio dei fratelli che lo doneranno all'opera dobbiamo ricordare che questa mostra come gli altri progetti di fondazione Brescia Musei sono resi possibili grazie al sostegno anche delle aziende che sono entrate all'interno del progetto Alleanza per la Cultura che ci accompagna in questi progetti di valorizzazione straordinaria questo progetto come abbiamo detto è incluso all'interno dei progetti finanziati da strategia fotografia ringrazio qui tra l'altro il dottor Filippo Maggia che lavora anche in collaborazione col ministero su questo bando e che ha desiderato venire oggi a vedere il risultato spero sia soddisfatto poi ne parleremo il progetto lo vedete nel logo è parte integrante dei festeggiamenti per i 1600 anni 421-2021 di Venezia e dal momento che l'architettura è chiaramente un'architettura dell'epoca veneziana il progetto si completa allestitivamente in questa sala dove però non vedete perché l'abbiamo spento per l'occasione il video che normalmente i visitatori troveranno realizzato da Simone Rigamonti che presso lo studio Open Care di Restauro ha seguito accompagnato i lavori per raccontarlo poi ai visitatori e vi ricordo che se non lo avete fatto ribadisco ci farebbe piacere potervi inviare nelle settimane prossime sarà pronto il catalogo edito da Schirà e ora ci spostiamo per un buffet senza il sindaco ma saremo comunque festeggianti questo momento sulle logge del Chiostro di San Salvatore dove la società i ricevimenti che collabora con noi ha inteso offrire oggi un buffet e quindi li ringraziamo anche per questo al termine uscendo vi sarà regalata una bomboniera no non è vero una poster di quest'opera così da potervela ricordare fin tanto che non riceverete il catalogo io vi ringrazio ringrazio gli amici della stampa che sono venuti tutti quelli che non ho ringraziato a dovere e soprattutto devo dire la dottoressa Villafranca e le collaboratrici che avete visto in quella bellissima fotografia con le quattro restauratrici che sono anche delle artiste al lavoro dello studio di restauro open care grazie e buona continuazione